Oggi la medicina è a un bivio, praticamente si tratta di arrivare sempre più in profondità a livello molecolare, cellulare e nello stesso tempo invece mantenere la visione globale dell'individuo perché ogni organismo in realtà è un insieme di organi correlati in maniera interdipendente fra di loro. E quindi questa è la grande sfida della medicina, particolare e generale. Se dobbiamo entrare in particolare noi sappiamo che ormai tante problematiche si manifestano e partono già a livello cellulare o ancora di più a livello mitocondriale. Il mitocondrio è fondamentale perché il mitocondrio è la sede di produzione della nostra energia. Se il mitocondrio non funziona bene non riusciamo a produrre abbastanza ATP, abbastanza energia e le nostre cellule e l'intero nostro organismo funzionerà peggio. Per cui questa è la medicina mitocondriale a questo punto può essere definita, l'approccio che va a valutare l'efficacia dei nostri mitocondri. I nostri mitocondri sono appunto quelli che producono ATP, utilizzano l'ossigeno per produrre ATP, per cui sono soggetti a un notevole stress di tipo ossidativo. Quindi è importante invece mantenere il loro equilibrio redox. Un prodotto eccezionale nel mantenere ciò è il Cell Food perché ha un notevole effetto antiossidante, è un veicolatore di ossigeno nello stesso tempo e inoltre si è visto essere in grado proprio di migliorare le disfunzioni a livello endoteliale nell'organismo proprio perché agisce sulla salute dei mitocondri.